Oggi a Quartu è stata presentata la prima edizione del Fon Video Festival, organizzata dall'Associazione Enti Locali e con il contributo del Comune di Quartu e della Regione Sarda. Sentiamo le parole del regista Giovanni Columbo, intervistato da Maurizio Ciotola. Tutti possono rappresentare attraverso un semplice smartphone. Beh, nasce dalla consapevolezza che molto del futuro del cinema sta in questa dimensione apparentemente marginale che è quella dei video fatti col telefono. Basti considerare il fatto che sono alcuni miliardi di persone quelli che utilizzano il telefono, che ce l'hanno sempre in tasca e che quindi sono con questo strumento in grado di fare cose che non si potrebbero mai fare con una telecamera, perché in qualunque circostanza uno oggi è nelle condizioni di testimoniare e di raccontare qualche cosa. Ecco, quindi noi raccoglieremo diversi di questi elaborati, lì cercheremo anche però di, come dire, attivare un momento di riflessione e di consapevolezza anche col supporto di diversi studiosi. Io dico la grammatica che peraltro è una materia in divenire, non c'è la grammatica stabilita a priori e per sempre e si evolve ovviamente come si evolvono i linguaggi. Certo, è vero che dal punto di vista della cronaca dell'immediatezza e lo smartphone è lo strumento eccezionale, per eccellenza forse il migliore, però dal punto di vista della creazione di filmati, di immagini, ecco... Fondamentalmente quello che io personalmente ritengo debba essere auspicato non è partire dalla grammatica, ma partire dal racconto. Potrei citare a questo punto l'asserzione fatta da Ode Filippo, il quale diceva Chi cerca lo stile trova la morte, mentre invece chi cerca la vita trova lo stile. Chi cerca lo stile